buongiorno a tutti benvenuti su investire.biz e ben ritrovati come di consueto alla rubrica caffè e mercati tantissime le persone presenti ieri al webinar del lunedì dove abbiamo presentato tutti gli indicatori proprietari per la piattaforma di investire.biz per la piattaforma di kimura trading tra questi indicatori insomma abbiamo spiegato come funziona l'indicatore range indicator che individua in automatico i supporti alle resistenze statiche, il biz auto trend che va a tracciare le trend line lo sniper pattern che individua i pattern di prezzo in automatico all'interno della piattaforma e quindi tutti questi indicatori ce ne sono anche altri per esempio il position calculator per individuare il rapporto rischio rendimento di ogni operazione, il biz dettagli che ci offre tutte le informazioni necessarie sulla candela dove insomma andiamo a appoggiare il cursore e insomma abbiamo spiegato tutte queste funzioni insomma che sono utili semplicemente alle nostre analisi quando andiamo a farle insomma sui grafici poi adesso mettiamo online il webinar così da poterlo rivedere tutto quanto poi per maggiore informazione non esitate a scrivere una mail a info.investire.biz ora però andiamo sul sito andiamo sul sito per poi andare ad aggiornare un po' di strumenti eccoci qui quindi che nella sezione appuntamenti se andiamo nella sezione appuntamenti ricordo a tutti che oggi c'è il corso completo di Cimoco e Price Action o l'ultima sessione l'ultima lezione del corso sessione operativa anche oggi dalle ore 18 alle ore 20 quindi vi aspetto vi aspetto qui questa sera siete ancora in tempo per comprarlo con il 20% di sconto poi da domani costerà 5,199 bene e allora andiamo subito sulla piattaforma del broker Kimura Trading eccoci qui per andare ad analizzare chiaramente il gold giustamente e l'argento allora partiamo con il gold che ieri si è apprezzato particolarmente il gold ha chiuso al di sopra della Cumo quindi al di sopra del livello di 1775 abbiamo assistito a tutta questa fase di ritracciamento che però è finita quando? con la candela di ieri, candela ad alta volatilità che apre simini, non apre proprio simini ma comunque ha un corpo molto importante questo è un segnale rialzista molto forte, io ricordo che avevo segnalato un livello molto interessante che era quello di 1769 quindi qui i prezzi potevano fermarsi, così è stato e grazie al nostro target indicator noi qui abbiamo già i nostri obiettivi come potete vedere ne abbiamo due vicini, uno a 1830 e uno a 1840 questo è un livello chiave a mio avviso prima però ricordo che abbiamo anche il livello di 1810 quindi questi sono un po' i livelli chiave sul gold è vero che la linea Kijun è molto lontana dai prezzi ma a breve recupererà in maniera anche abbastanza veloce la stessa cosa sta succedendo sul argento mentre qui siamo ancora al di sotto della Cumo ma il trend è bello rialzista, come sapete l'argento è uno strumento più volatile del gold quindi ieri abbiamo assistito a che cosa? abbiamo assistito a un apprezzamento più importante, infatti qui stiamo parlando di un più 4% mentre sul gold c'è stato un apprezzamento minore detto ciò la view è la stessa rialzista infatti il trend è cambiato, lo diciamo da tempo chi è entrato qui ha fatto bene in area 26, secondo me c'è spazio rialzo fino alla zona dei 28 andiamo avanti e parliamo di cambi valutari dobbiamo parlare di euro-dollaro che sta scendendo anche quest'oggi sta scendendo e si sta avvicinando alla zona di 1,20, 1,1975 non abbiamo fretta, non dobbiamo avere fretta e attendiamo insomma un ritorno su questo livello qui diciamo che il primo supporto è già stato testato per ben due volte sia ieri che proprio nella giornata di oggi vedremo se questa zona atterrà entreremo qui solamente dopo aver visto una candela insomma di indecisione o comunque di inversione perché potrebbe essere troppo presto quindi per entrare qui, ok, dobbiamo essere un po' più conservativo comunque attendere un po' più di conferma mentre con i prezzi dovessero ritornare in area 1,1975 io entro subito con un ordine a mercato concludiamo il tutto con che cosa? concludiamo il tutto con WestDicad WestDicad che sta iniziando a risalire ieri al webinar del lunedì abbiamo visto questo livello che è un livello a mio avviso molto interessante guardate quante persone sono posizionate al rialzo l'89% detto ciò però io vorrei attendere dopo ve l'ho analizzato nel dettaglio un livello anche più alto quindi attenderò un ritorno in area 1,2375 per entrare short su un cambio valutario che continua a segnare comunque massimi e minimi via via decrescenti bene io direi che per oggi abbiamo visto tutto vi aspetto questa sera al corso completissimo che price action sessione operativa quindi andremo ad operare e andremo a fare tutte le nostre analisi buona giornata e buon trading a tutti e andremo a fare tutte le nostre analisi grazie a tutti